Kayani, in lingua eschimese significa medicina forte, nasce da studi effettuati su di una gribù in Alaska che nel loro vocabolario non avevano parole come infarto, cancro, diabete, colesterolo, artrite e altre malattie che per noi occidentali sono piuttosto comuni. Tale analisi hanno portato allo sviluppo di tre prodotti Kayani, naturali, ad alto impatto, che non cambiano le abitudini alimentari delle persone ma che ne migliorano e mantengono il benessere psicofisico. Questa è la filosofia dell'azienda Kayani, nata nel 2005 negli Stati Uniti e diventata in pochi anni una delle società leader a livello mondiale per ciò che concerne i prodotti nutraceutici, integratori alimentari innovativi e rivoluzionari basati solo su elementi naturali. Il triangolo della salute Kayani presenta tre prodotti Kayani Sunrise, Kayani Sunset e Kayani Nitro FX. Ogni prodotto lavora sinergicamente per fornire a te e alla tua famiglia alimenti ineguagliabili ed ottima salute. Kayani Sunrise è uno straordinario nutriente che si distingue per il potere dei mirtilli rossi dell'Alaska, nove super alimenti, vitamine e minerali essenziali. I mirtilli rossi sono conosciuti per i loro benefici che promuovono la salute e come uno dei più potenti antossidanti al mondo fondamentali per il mantenimento della salute e proteggono le cellule dalle infiammazioni e dalle malattie. Kayani Sunrise aiuta a mantenere il cuore in salute, sostiene il sistema neuronale e molto altro. L'eccezionale valore nutrizionale di Kayani Sunrise ne fa il modo ideale per iniziare al meglio la tua giornata. Infatti mantiene in salute il cuore, la flessibilità delle articolazioni, sostiene le funzioni cognitive, aiuta a conservare l'energia, attiva una gestione efficace dello stress, supporta il sistema immunitario, incoraggia una sana digestione, promuove una positiva salute mentale e fornisce un sostegno cellulare. Il contenuto vitaminico di Kayani Sunrise è un concentrato naturale talmente elevato che è come se avessi mangiato tutti questi insieme di alimenti. Kayani Sunset è la combinazione perfetta tra omega 3 e una delle più potenti forme vitamina E, chiamate tocotrienoli. Alcune ricerche hanno scoperto che la vitamina E aiuta a sviluppare un sistema neuronale più forte, una migliore salute del cuore e della mente e aiuta le membrane cellulari a diventare più forti. Kayani Sunset presenta anche omega 3, un grasso acido essenziale per ogni cellula del corpo. Gli omega 3 sono particolarmente importanti per il cervello e del cuore. Combinati insieme, questi due super alimenti aiutano ad abbassare e mantenere il colesterolo dannoso e da ridurre le infiammazioni. Kayani Sunset è l'integratore da prendere a fine giornata. Aiuta a mantenere sani i livelli di colesterolo, sostiene la salute cardiovascolare, aiuta a mantenere sani i livelli di zucchero nel sangue, sostiene la falcoltà cognitive, aiuta un sono più sano e riposante, promuove una sana risposta immunitaria, aiuta a ridurre le infiammazioni, sostiene le membrane cellulare e supporta la salute di pelle e capelli. Kayani Nitro FX è una miscela della pianta di noni, che scientificamente dimostrato aumenti la produzione di ossido nitrico conosciuto anche come la molecola della vita. L'ossido nitrico ripara, difende e mantiene ogni cellula del corpo. Kayani Nitro FX migliora la salute sessuale, sostiene un'adeguata circolazione e promuove un aumento di energia. Con il triangolo della salute Kayani migliori la salute e il benessere per te e per la tua famiglia. Bastano una o due pipette di Kayani Nitro FX tre volte al giorno. Mantiene in salute il cuore, aiuta la corretta circolazione del sangue, incoraggia il flusso sanguigno, sostiene la facoltà cognitive, promuove l'aumento di energie, supporta il sistema immunitario, aiuta a ridurre le infiammazioni, migliora la salute sessuale e promuove l'assorbimento delle sostanze nutrienti da parte del corpo. Grazie alla garanzia, soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, valida per tutti i clienti, non vi sono scuse per non provare i prodotti Kayani ed approfondire la tua esperienza. Kayani non ha basato il proprio sviluppo sulle classiche forme pubblicitarie come tv, radio o web, o su canali commerciali tradizionali come i negozi, ma sul passaparola delle persone che sperimentandone i prodotti hanno trovato un efficace sostegno per il proprio benessere. Se il prodotto non fosse efficace, Kayani non avrebbe successo. Kayani offre a coloro che vogliono diventare consumatori e distributori una redditizia opportunità di guadagno, accedendo subito ad uno sconto sui prodotti del 30% per il proprio autoconsumo e ricevendo una percentuale su tutti gli acquisti da parte delle persone che hanno conosciuto Kayani grazie a te. Attenzione, non si tratta di vendita diretta, ma di network marketing, ovvero il marketing del passaparola. Se non hai chiara l'idea di cosa sia il network marketing e come funzioni, ti invito a visionare il video che trovi nella sezione dedicata al network marketing. Ma allora perché Kayani è un'opportunità di business da valutare? Perché rappresenta una soluzione concreta per generare un secondo reddito che può andare mensilmente da poche centinaia di euro a cifre importanti grazie ad un'attività totalmente indipendente e che puoi fare quando, dove e con chi vuoi. Kayani in Italia è in fase di prelancio e rappresenta una vera e propria opportunità al piano terra, ovvero con meno di 10.000 distributori. Nota bene che un'azienda che ha meno di 100.000 distributori è come il classico treno che passa una volta nella vita. Diventando distributore Kayani si entra a far parte della rivoluzione del business e del benessere, un settore stimato dagli economisti con vertiginosi indici di crescita per i prossimi 5 anni. Kayani è una multinazionale, solida ed affidabile, che ha investito oltre 300 milioni di dollari prima di aprire le sue porte, diventando l'azienda con il lancio più sicuro nella storia dei network marketing. Kayani è basata semplicemente su tre prodotti altamente consumabili, quindi con vendite ripetute, ed il piano compensi è innovativo, rivoluzionario, senza blocchi in profondità e paga per primi gli ultimi entrati. Infine il nostro team ha creato un sistema di lavoro che insegna da zero a fare network marketing, sia alle persone esperte che ha quelle un po' già più avezze, aiutando ogni persona a svilupparsi e supportandoti in tutte le fasi. Quindi, se cerchi un prodotto che abbia un ottimo impatto per lo stato del tuo benessere, con l'ulteriore garanzia dei 30 giorni soddisfatto e rimborsato al 100%, oppure una possibilità per creati un secondo reddito, contattaci senza impegno, saremo letti di fornirti tutte le informazioni che necessiti.